Bene, eccoci qui davanti al Ministro dell'Istruzione. Siamo arrivati per intervistare il nuovo Ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti. Gli sottoporremo le denunce, le proposte, le tante idee dei lettori della tecnica della scuola che hanno aderito in massa all'iniziativa Dillo al Ministro. Bene, riguardo questi primi giorni di scuola, il precariato è stato uno dei temi più sentiti, più anche finiti sui media. Abbiamo ancora delle supplenze che non sono completate, moltissimi dirigenti stanno ricorrendo alle MAD e cosa avete intenzione di fare come Ministero e come anche struttura che ha preso in mano questo nuovo corso della pubblica istruzione? Prima di tutto molte grazie per l'opportunità di parlare alla vostra comunità di riferimento, insomma ai lettori di tecnica della scuola che sono sicuramente molto molto addentro a queste questioni in generale, a ciò che attiene al presente e al futuro della scuola. Per quanto riguarda il precariato, già da Vice Ministro mi sono dedicato molto alla piaga, quella che considero la piaga del precariato nell'ambito degli enti pubblici di ricerca e dell'università. Io ho voluto applicare lo stesso ragionamento alla scuola, dove ovviamente abbiamo dei numeri fuori controllo, abbiamo ancora troppi precari, precari storici, precari con tanti anni di anzianità. Il nostro obiettivo è quello di ridurre drasticamente il precariato, io vorrei poter dire eliminarlo, ma sono anche realista, so che quando si hanno 150, 160, 170 mila precari in un paese, riuscire a farlo in poco tempo è davvero impossibile. Noi dobbiamo assolutamente ridurli, magari andare sotto i 100 mila entro il prossimo anno, fare in modo che ovviamente le cattedre siano occupate dal primo di settembre, quest'anno abbiamo avuto una serie di problemi anche dal punto di vista delle cattedre scoperte, troppe cattedre scoperte. Voi avrete seguito le vicende delle trattative con i sindacati per quanto riguarda il nuovo decreto legge sulla scuola, l'università e la ricerca, quello che ad agosto era stato approvato come salva precari, salvo intese. Noi abbiamo ampliato il margine di quel decreto legge, lo abbiamo fondamentalmente reimpostato perché nel frattempo il governo è cambiato, anche quindi la maggioranza di riferimento è cambiata e abbiamo voluto dare un segnale forte su A, un concorso ordinario che ricordo sempre è la via maestra per rimettere in piedi la scuola, sono i concorsi ordinari e regolari. Purtroppo in questo paese ne sono stati fatti troppi di straordinari e con cadenze molto molto irregolari e al tempo stesso per almeno 24.000 posti e al tempo stesso avviare un concorso straordinario per i cosiddetti precari storici, cioè coloro che hanno almeno 36 mesi di servizio e fare in modo che questo sia un percorso abilitante anche per coloro che superano una certa soglia ma che non dovessero rientrare nei posti messi a disposizione. Quindi noi avremo un percorso di abilitazione particolare per i precari storici e poi abbiamo fatto un collegato alla legge di bilancio che si approverà alla fine dell'anno in cui vogliamo mettere in mano un nuovo percorso di abilitazione perché se da un lato dobbiamo combattere il precariato dobbiamo anche fare in modo che i docenti di ruolo e precari che vanno in cattedra siano giustamente formati. Il percorso di abilitazione che esisteva negli anni precedenti era a mio parere eccessivamente complesso, sicuramente molto formativo ma eccessivamente complesso, io, i miei collaboratori, le forze parlamentari, i sottosegretari e la viceministra stiamo lavorando a un nuovo percorso di abilitazione per tutti, docenti delle scuole pubbliche, docenti delle scuole paritarie, affinché si possa arrivare nel giro di poco tempo, noi immaginiamo entro marzo-aprile, ad un nuovo modello di abilitazione aperto a tutti che sia lineare, fattibile, porti persone formate in cattedra nei tempi più rapidi possibili. Aperto a tutti con una soglia di entrata a livello di servizio? Allora, questo noi ci stiamo lavorando in questo momento. No, l'abilitazione, il nuovo percorso di abilitazione dovrà essere aperto a tutti coloro che hanno i titoli per poter immaginare di fare l'insegnante, quindi coloro che sono laureati e coloro che avranno un nuovo percorso. Coloro che invece avranno il servizio da parte loro e non saranno rientrati nel concorso straordinario oppure nel percorso di abilitazione speciale che abbiamo costituito per loro con l'attuale decreto, ovviamente per loro verrà riservato un altro tipo di percorso, sempre all'interno di questa abilitazione, che avrà una serie di elementi transitori per fare in modo che chi già insegna possa abilitarsi e entrare in ruolo senza rimanere fuori. Bene Ministro, ho capito lo stipendi. Lei ha chiesto dal suo insediamento al MIUR 3 miliardi di euro, di cui 2 per la scuola. Più di un miliardo sarebbe andato per rinnovare il contratto che si sarebbe sommato ai fondi della scorsa legge di bilancio. Ecco, se questo non avvenisse, cosa ha intenzione di fare? Allora, prima di tutto diciamo che il rinnovo del contratto dei docenti è una necessità ineludibile. Noi abbiamo i docenti meno pagati d'Europa, si fa tanto parlare della scuola, della scuola innovativa, della scuola come elemento di emancipazione di una società. Io davvero credo che questo sia verissimo, ma è difficile farlo quando le strutture scolastiche sono fatiscenti o quando i docenti, che dovrebbero essere uno degli elementi di avvio, del cardine di questo percorso, sono pagati troppo poco. Quindi il rinnovo del contratto è importante, è anche un rinnovo significativo. Io ho parlato di un rinnovo di 100 euro, almeno, in busta paga. Quindi questo ha un costo che insieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze abbiamo stimato intorno all'1,5 miliardo. Più o meno, ora, cifra più, cifra meno. Loro hanno i numeri migliori dei nostri perché sono in grado di fare stime più complete. Già questo significa che il rinnovo del contratto si prende una buona parte di quei 2 miliardi che avevo indicato per la scuola perché un miliardo l'avevo indicato per l'università e per la ricerca. Stiamo lavorando proprio in questi giorni alla nuova legge di bilancio. I giochi si fanno adesso. C'è ancora molto, ma molto dibattito sulle misure che verranno utilizzate, introdotte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per creare gettito. E quindi tutto un discorso di carattere macroeconomico che non interessa a noi. Ma quello che voglio dire è che le porte sono aperte, la possibilità sono, a mio parere, molto buone, affinché si possa fare la differenza sulla scuola e sull'università della ricerca. Io ho legato il mio mandato a questo obiettivo, quindi sono, come potete immaginare, particolarmente impegnato su questo fronte. Bene, per quanto riguarda i cosiddetti esiliati del 2015, furono assunte quasi 10.000 persone, 10.000 docenti. Una parte di questi devono ancora tornare, diciamo, nelle loro regioni e province di residenza. Cosa avete intenzione di fare per venire incontro alle istanze e esigenze di questo personale, tra l'altro assunto con un algoritmo che è stato tecnicamente dimostrato errato o sbagliato? Questi sono i paradossi del sistema anche amministrativo italiano, per cui la mia totale solidarietà ai tanti docenti che devono fare chilometri, chilometri, centinaia di chilometri a volte per recarsi dalla propria area di residenza presso le scuole dove lavorano. Io ho chiesto da subito che venisse, prima di tutto mi venisse spiegato come si erano realizzati a questa situazione incresciosa e poi che si cercasse una soluzione per questo problema che fosse una soluzione efficiente, efficace e ragionevole. Voi potete immaginare che c'è anche una situazione di fondo molto complessa nel nostro paese e cioè, per dirvi una cosa che sappiamo tutti, gran parte degli insegnanti vengono da alcune regioni e gran parte dei posti nelle scuole sono in altre regioni. Questo è un problema del nostro paese endemico che si è aggravato nel tempo anche perché le disuguaglianze economiche portano molto a questo, cioè che in alcune regioni è difficile trovare gli insegnanti perché le opportunità di lavoro sono altrove e in altre regioni, mentre in altre regioni è molto più semplice o meglio l'insegnante è una di quelle opzioni più a portata di mano per tanti, persone molto molto competenti, tra l'altro che fanno grandi anche le regioni in cui lavorano, spesso non sempre apprezzate fino in fondo. Per me è importante da un lato garantire la continuità didattica, garantire che la scuola italiana tenga e al tempo stesso rispondere a queste esigenze. Quindi non ho voluto agire di getto, non ho voluto improvvisare, è una situazione complessa che prevede un marchigegno, un meccanismo molto complesso, quindi ho chiesto al Ministero da subito di portare, di darmi delle indicazioni su cosa si può fare, le stiamo studiando in questa fase. Devo dire, per un anno e mezzo il precedente Ministro che si era anche lui ha dichiarato particolarmente scontento di questa situazione, perché è una situazione che scontenta un po' tutti, scontenta l'insegnante magari che viene dalle regioni del Meridione, che vorrebbe essere vicino a casa, che prende magari uno stipendio che non è sufficiente per vivere da pendolare, ma scontenta anche la scuola di un'altra regione dove magari si rischia un continuo avvicendamento sulle cattedre e quindi di interrompere la continuità didattica. Quindi è una situazione paradossale che scontenta tutti. Esiste un problema endemico, dobbiamo risolverlo, non si può risolvere l'imperio con un atto, con la penna, con una semplice nota di un Ministro. Però c'è un impegno da parte del Ministro. Noi siamo molto coscienti della difficoltà enorme a cui fanno fronte molti docenti. Immagino che la comunità scolastica capisca bene che è stato fatto un danno in una serie di anni su un problema che comunque esiste, a questo si è aggiunto un danno, non è facile riuscire a mettere riparo a questo danno con un'azione unilaterale da parte di un Ministro. Si rischierebbe di fare esplore la scuola. Ministro, un altro problema risolto è sicuramente quello dei diplomati magistrali. Sono tanti, decine di migliaia, hanno subito due sentenze del Consiglio di Stato negative e rischiano di ritrovarsi in 7-8 mila addirittura assunti con un anno di prova concluso e non in seconda fascia di istituto senza nessun tipo di prospettiva e di carriera. Ecco, su questo fronte cosa avete intenzione di fare? Allora, anche questa è una delle situazioni paradossali italiane, per cui esiste una situazione di fatto, ciò che delle persone abbiano insegnato per molti anni, una situazione di diritto legata al fatto che queste persone non avevano tecnicamente il titolo di studio per poterlo fare. Quindi, di nuovo, ci si ritrova a dover gestire queste situazioni, queste cancrene, anche queste giuste rivendicazioni da parte di una parte importante nel nostro mondo della docenza. In questo decreto legge che è stato approvato la settimana scorsa, noi non abbiamo portato la questione dei diplomati magistrali, anche perché non si è trovato la convergenza tra le forze di maggioranza. Esistono in questo caso, come voi immaginate, due mondi interessati. Cioè, chi è in cattedra oggi e rivendica la possibilità di esserci, e chi vorrebbe esserci e non c'è. Quindi rivendica la possibilità, anche a fronte di un titolo di studio, di poter insegnare. In questo caso, scusate se la interrompo, abbiamo tantissimi laureati in scienze della formazione primaria che a loro volta premono e quindi a loro volta hanno le loro ragioni. Tutti hanno le ragioni. Chi ha un precariato storico e ha esercitato la professione per molti anni, chi ha studiato e giustamente vorrebbe poter insegnare. Quindi qui, da legislatore, bisogna agire sempre con equilibrio. Noi l'anno scorso abbiamo fatto una deroga, una proroga alla scadenza per le diplomate magistrali fino al 30 giugno di quest'anno. Le sentenze del Consiglio di Stato sono arrivate dopo. E quindi cosa sta accadendo? Quello che mi preme di più, non soltanto la vicinanza alle persone che rischiano di perdere il lavoro, ma anche il rischio di poter interrompere la continuità didattica, perché persone che in questi mesi si trovano in cattedra potrebbero essere licenziate in virtù dell'applicazione delle sentenze. Noi le sentenze dobbiamo applicarle. Io confido molto in questa fase di conversione del decreto legge, dove secondo me si potrà trovare una convergenza tra le forze politiche e cercare un punto di equilibrio. Devo dire la verità, non ne avevamo trovato uno. Purtroppo per una questione legata alla fiscalità del nostro sistema nazionale rischiava di generare un costo aggiuntivo per il quale non esistevano le cosiddette coperture, perché altrimenti avremmo già individuato la possibilità di risolvere questo problema. Però ora il decreto legge va in conversione. Io mi auguro che si possa applicare o quella soluzione che avevamo individuato o un'altra per fare in modo di garantire da un lato la meritocrazia, al tempo stesso la continuità didattica. Bene, un'altra piaga, possiamo così chiamarla, è quella del sostegno. In questi giorni ci sono stati casi anche di mamme, di genitori che hanno ritirato i propri figli, perché gli oltre 50.000 insegnanti con supplenza annuale, i cosiddetti posti in deroga, ancora non sono stati nominati. Ecco, si è fatto tanto, abbiamo avuto l'ultima riforma con una parte dedicata al sostegno, ma di fatto il problema rimane, anzi si sta ingigantendo, anche perché ogni anno ci sono circa 10.000 alunni disabili in più iscritti. Anche in questo caso le chiediamo cosa intenzione, le chiedono i lettori della tecnica della scuola, cosa avete intenzione di fare? Allora, anche qui esiste un problema endemico particolarmente significativo. Noi in Italia abbiamo una popolazione studentesca che si riduce e al tempo stesso proporzionalmente aumentano i casi di sostegno, di ragazzi che hanno bisogno del sostegno. Quindi anche qui la scuola italiana sta affrontando una dinamica epocale particolarmente complessa. L'Italia è però uno dei pionieri dal punto di vista delle scuole inclusive, quindi noi vogliamo mantenere assolutamente, cosa che non esiste in molti altri paesi, la possibilità di un'inclusione totale delle persone con disabilità all'interno delle scuole ordinarie. E poi c'è un problema anche di carattere amministrativo, cioè da un lato ci sono problemi di risorse, ma dall'altro noi riscontriamo sempre di più una lentezza nel modo in cui le persone riescono ad arrivare in cattedra. Questo vale per gli insegnanti in generale, ma anche in particolar modo per gli insegnanti di sostegno. Su questo stiamo cercando di intervenire già da subito. Allora, prima di tutto io ho stanziato 5 milioni di euro immediatamente per fare in modo che si potessero fare corsi di formazione nelle scuole, anche al personale che non è di sostegno, perché il futuro è il futuro in cui la scuola nella sua interezza come corpo collettivo si prende cura di tutti, anche di chi ha bisogno di un'attenzione particolare. Quindi questo è molto importante. Due, abbiamo bisogno di più risorse per avere insegnanti di sostegno formati. Questo è il secondo problema. Noi abbiamo tanti insegnanti di sostegno che però in realtà non sono necessariamente formati per il sostegno. Sono insegnanti che hanno studiato per altre classi di concorso e il sostegno diventa una possibilità per esercitare la professione e poi magari nel tempo anche acquisire quell'anzianità che permette il passaggio esatto, di ritornare sulle cattedre originarie. Questo è, da un certo punto di vista, un problema. Anche una risorsa, perché ci sono molte persone disponibili, ma un problema perché la persona deve essere formata, altrimenti fa un pessimo servizio per se stesso e per le famiglie e per i ragazzi, le ragazze che hanno bisogno del loro sostegno, per le famiglie e per la classe e la comunità scolastica in generale. Quindi un'altra cosa che stiamo facendo, per esempio con molte università, che si sono rese disponibili, stiamo ampliando i numeri che permettono agli insegnanti di formarsi sul sostegno presso i TFA universitari. Anche lì esistono università che hanno delle possibilità in più, con un minimo di intervento anche finanziario del Ministero, si può dare più posti affinché si possano velocizzare e ampliare i numeri del TFA sul sostegno. Nel medio termine quello che noi dobbiamo fare assolutamente è velocizzare, anche qui la macchina è complessa, però velocizzare le varie strutture ministeriali dal livello nazionale al livello regionale e provinciale per fare in modo che i ragazzi che quest'anno hanno dovuto soffrire questa vera e propria indecenza di non sentirsi, di non avere, a volte non averne niente il sostegno, a volte avercelo per una, due, tre ore al giorno, il che vuol dire avere un servizio di scarsa qualità, non potersi integrare nella scuola. Io immagino da padre come possono vivere le famiglie, insomma, che affidano i propri figli a una struttura scolastica senza avere la certezza che qualcuno formato e competente li aiuti. Se questo è vero per un bambino o una bambina in condizioni di normo dotate, immaginate quanto possa essere vero per ragazzi e ragazze che hanno delle disabilità. Quindi è estremamente importante che questo accada. Io conto sul fatto che con maggiori risorse, con una formazione complessiva, anche nei confronti di chi non fa sostegno, ma chi fa scuola in senso più generale, si possa arrivare nel tempo più rapido ad una soluzione. Incidentalmente, ve lo dico, la prima cosa che ho fatto è ricostituire l'osservatorio sull'inclusione scolastica, che per non so quale ragione non veniva costituito da mesi, e attraverso loro iniziare due percorsi sui piani educativi individualizzati, sui gruppi di lavoro per quanto riguarda il sostegno, per fare in modo che si arrivi a settembre non con un colpo di mano o questa bomba che ci scoppia in mano, ma con un percorso chiaro che ci porti a capire già dai mesi precedenti se esistono dei coli di bottiglia o delle regioni che stanno indietro rispetto ad altre e come intervenire. Questo lo hanno molto caldeggiato le associazioni di riferimento e io sono molto contento di poter lavorare con loro. Bene, cambiamo argomento, parliamo di due disegni di legge del Movimento 5 Stelle, su cui il vostro partito, Movimento, si è speso per un anno, nell'ultimo anno, che sono la riduzione del numero di allunni per classe e il tempo pieno al sud. Ecco, avete intenzione di accelerare su questi due punti, anche perché sono molto sentiti, molto richiesti dal personale della scuola? Allora, assolutamente sì, l'accelerazione dipende molto dai tempi parlamentari. Io sono molto rispettoso del percorso parlamentare e voglio evitare di accentrare sull'esecutivo l'azione legislativa. Quando esiste un percorso parlamentare avviato va rispettato perché è poi lì che si fanno le operazioni di riforma più importante, trasversali e anche più democratiche. Quindi il percorso sulle classi pollaio e sul tempo pieno al sud è già cominciato da mesi. Sono ambe due delle proposte che io ho sostenuto perché non possiamo permetterci di andare avanti con classi con troppi ragazzi. Se poi consideriamo che in alcune di queste classi rischiamo pure di avere il problema del sostegno che si incrocia con i numeri, diventa davvero esplosiva. Cioè scuole con classi troppo affollate dove magari esiste anche una persona con delle disabilità a fronte magari di un sostegno che manca, un sostegno non formato. Quindi diventa anche un problema enorme per la comunità scolastica in senso generale. Quindi noi dobbiamo assolutamente abbassare i numeri e dobbiamo fare in modo che il tempo pieno, che io ritengo essere un servizio di civiltà, sia fruibile in tutto il territorio nazionale, sia accessibile a tutti. Anche in questo caso significa risorse, significa poter avere più classi, più docenti, significa avere una maggiore offerta formativa presso le scuole e quindi questo richiede anche di finanziamenti. Non è possibile farlo a costo zero. È arrivato il momento di dire chiaramente, puntare i piedi e dire sulla scuola noi non possiamo fare economia. Anche perché nel caso del tempo pieno si tratta anche di investire su strutture, su menze scolastiche che al momento, soprattutto al sud, sono mancanti. Assolutamente, assolutamente. Significa investire sulla scuola. Io lo dico anche chiaramente, quei due miliardi che io sto lavorando per ottenere saranno sufficienti per iniziare questo tipo di percorso. Poi ci sarà bisogno di un investimento ancora maggiore. Però penso che oggi bisogna dare un forte segnale di discontinuità e questo è un inizio. L'obiettivo è proprio quello, creare delle scuole. Sicure, accoglienti, confortevoli e sostenibili. Quindi un servizio omogeneo a livello nazionale dove chiunque possa dire ho bisogno del tempo pieno, voglio fare il tempo pieno, so che mio figlio è in condizioni di operare in una comunità che funzioni, in una struttura sicura, non si farà male, avrà del cibo salutare e così via. Noi possiamo farlo, le risorse ci sono in Italia, bisogna avere il coraggio di investire. Io mi sto abbattendo per questo. Ministro, nei giorni scorsi ha fatto molto rumore la sua dichiarazione sul crocifisso. Ma lei non ha mai detto di volerlo togliere il crocifisso dalle classi? No, non soltanto non l'ho mai detto, non ho mai neanche immaginato di poterne parlare di questa cosa. Non è all'ordine del giorno dell'attività di questo governo, non è all'ordine del giorno delle mie attività come ministro. È una di quelle cose che hanno a che vedere con questo dibattito isterico del nostro Paese, per cui a fronte di una domanda insistente che molto spesso probabilmente nessun giornalista che l'ha riportato abbia ascoltato la mia conversazione, perché altrimenti non sarebbe stata una notizia. Però io mi sono slimitato a dire, tre volte che non era all'ordine del giorno, la quarta volta alla domanda ma lei nel mondo ideale, la sua scuola ideale, che scuola è? Sarebbe, io ho detto, beh io credo in una scuola laica, mi piacerebbe che sulle pareti ci fossero dei riferimenti alla Costituzione, allo sviluppo sostenibile. Punto. Cioè è diventato, a me un po' sorprende che con le scuole che crollano, con gli impegni nei confronti della lotta al precariato, con gli impegni sul sostegno, con davvero questa battaglia che questo ministro sta combattendo, forse primo negli anni, non ricordo altri ministri della scuola, dell'Università della Ricerca, che si fossero battuti così tanto, anche investendo il proprio cap personale politico e la propria credibilità, poi alla fine si dibatta di questo sui giornali italiani, creando un vespaio mediatico che poi, come spesso accade, è un po' il gioco del telefono. Uno dice una cosa, completamente diversa, poi è impossibile rintracciare l'originale, tutti parlano di un sentito dire che esce fuori controllo. Forse il fatto che non abbiamo investito abbastanza sulla scuola in questi ultimi decenni, ora ne paghiamo anche il prezzo dal punto di vista dell'isteria collettiva del nostro dibattito sociale e mediatico. Forse avessimo fatto meglio in passato avremmo un dibattito anche molto più sereno su certe questioni. Allora, parliamo dell'argomento un po' più tecnico. Ci sono nella scuola migliaia di assistenti amministrativi ex COCOCO che percepiscono metà stipendio perché lavorano a orario ridotto. Avete intenzione di portarli sul full time? Allora, questa è un'altra questione che mi sono ritrovato a gestire. Non potevo immaginare che ci fossero persone in realtà forzate a lavorare a lavorare a 18 ore a tempo parziale. Quando poi, soprattutto, le scuole hanno bisogno di personale amministrativo sempre più qualificato e a tempo pieno perché la scuola non è più quella che ho fatto io 20-30 anni fa o che ho fatto lei. La scuola diventa sempre di più una vera e propria comunità innovativa dove esistono progetti alternativi finanziamenti trasversali. Bisogna avere un personale amministrativo all'altezza e soprattutto una squadra vera e propria non soltanto il segretario di turno e quindi assolutamente sì è una di quelle questioni che ho messo sul tavolo anche qui c'è bisogno di risorse le risorse vanno trovate come dicevo a monte di questa intervista voglio puntare molto sul personale amministrativo della scuola è in genere quello di cui ci si dimentica sempre si parla di studenti giustamente si parla di docenti poi si parla di dirigenti scolastici figure fondamentali ma poi c'è qualcuno che agisce nel retrovie che permette a una scuola di fare gli appalti in tempi rapidi di avere delle menze che funzionano di avere dei servizi che sono all'altezza ecco questi sono dei dirittori amministrativi del personale amministrativo il cosiddetto comparto ATA che ha bisogno di una sua centralità e non può essere fatto con contratti a tempo determinato contratti di collaborazione con dei part time che si intersecano con altri part time va fatto in maniera seria alternanza scuola lavoro triennio finale delle scuole superiori c'è stato un po' un tirammolla su questa faccenda con la legge 107 erano state raddoppiate le ore del triennio ultimamente è stata fatta una modifica e quindi di nuovo dimezzate è stata cambiata anche il nome dell'alternanza è diventato più complesso però di fatto oggi moltissimi ragazzi si ritrovano a fare degli stage che non hanno nulla a che vedere con il loro piano di studi e soprattutto a discapito anche delle ore curricolari ecco cosa avete intenzione di fare sull'alternanza cioè anche chi ci ha chiesto aboliamola non rendiamola più obbligatoria allora io credo che l'alternanza scuola lavoro se fatta bene sia una grande opportunità ora si chiama percorsi di orientamento che secondo me è un termine molto più giustificato perché quello che serve è aiutare lo studente a capire come la sua formazione può essere poi utilizzata nel mondo del lavoro nel mondo aziendale nel mondo di quello che verrà dopo l'esame di stato questo è importante non dobbiamo lasciare i ragazzi senza alcun tipo di strumento per governare il proprio futuro però va fatta bene e va fatta bene significa che non soltanto siano delle aziende gli interlocutori di questi percorsi di orientamento ma che possono essere realtà della società civile enti locali ed altro enti universitari strutture universitarie che venga fatta con aziende che hanno anche con interlocutori che hanno certo pedigree io da questo punto di vista per esempio raccolgo le provocazioni i suggerimenti di molti studenti studenti medi che mi hanno segnalato come purtroppo ancora oggi io non ero a conoscenza mi ha stupito questa cosa alcune delle aziende che fanno alternanza scuola-lavoro con le scuole sono aziende dove magari i lavoratori vengono sfruttati o sono aziende del fast food insomma diciamocelo chiaramente non è quello il percorso di orientamento che noi dovremmo agevolare per fare in modo che i nostri studenti che lavorano nella scuola e si formano domani abbiano delle aspettative e delle ambizioni dal punto di vista professionale e poi a me piacerebbe molto che tutto questo venisse fatto anche con delle modalità interdisciplinari per esempio prima di venire in questa intervista io ho avuto una lunga conversazione con un liceo biomedico dove gli studenti potrebbero utilizzare le risorse dell'alternanza scuola-lavoro per esempio per fare quel tipo di formazione che serve per preparare i medici del futuro in collaborazione con strutture sanitarie con gli ordini dei medici con strutture anche con aziende farmaceutiche fare in modo che la formazione che avviene a scuola abbia il doppio obiettivo di formare per un determinato sbocco professionale ma anche di orientare i ragazzi che magari potrebbero avere delle velleità delle passioni per una disciplina come quella dei medici che oggi crea un problema enorme la carenza dei quali crea un problema enorme in Italia farlo prima ed evitare i colli di bottiglia degli esami degli accessi programmati dei numeri chiusi del test d'entrata e così via quindi io avrei un approccio molto laico a questa questione del percorso di orientamento farlo diventare davvero un'evoluzione e utilizzarlo in modo tale da rafforzare il percorso curricolare non da aggiungere un'altra cosa che molto spesso rischia di non avere nulla a che fare col percorso curricolare ma dare al percorso curricolare quella spinta in più che ti può aiutare a capire come quello che stai studiando può diventare uno sbocco professionale uno sbocco imprenditoriale e farti cominciare a interagire con la comunità di riferimento che di lì a qualche anno dovrai comunque affrontare di fatto non avete intenzione è stato ridotto lei l'ha sottolineato noi terremo il monte orario in questo modo trasformandone l'obiettivo trasformandone l'obiettivo e quindi l'ambizione finale ma riteniamo che sia utile anche all'interno di solito nelle scuole più tecniche ma anche all'interno delle scuole non tecniche la possibilità di percorsi di orientamento verso la formazione che siano davvero efficienti Bene Ministro le ultime domande riguardano la valutazione degli studenti si parla tantissimo di invalsi è un modo standardizzato che sappiamo anche oltre confine non solo in Italia ha preso il sopravvento moltissimi insegnanti sono contrari qual è la sua opinione? Allora io credo molto nella valutazione secondo me la valutazione va fatta è utile ma va fatta bene e quindi abbiamo già inviato da tempo un'interlocuzione con invalsi per capire esattamente non solo con invalsi ma anche con l'Ocse a cui gli invalsi fa riferimento per alcune delle metodologie di valutazione dell'apprendimento per capire esattamente come la valutazione non divenga un onere in se stesso ma sia davvero un'agevolazione per i docenti e per gli studenti perché se poi si deve studiare per passare il test di valutazione non abbiamo capito nulla del motivo per cui esistono le valutazioni le valutazioni devono essere fatte quasi in modo invisibile fatte in modo non oneroso perché devono essere valutazioni di un percorso di apprendimento purtroppo negli anni nella storia e in molti paesi la valutazione stessa è diventata una realtà che si autoalimenta quindi la valutazione va mantenuta ma va fatta in modo tale che sia di agevolazione al comprendere per esempio quali sono le carenze formative del nostro paese un elemento che manca che io voglio rafforzare molto è cosa si fa una volta che si è valutato che esistono dei problemi perché molto spesso sta diventando quello che gli americani chiamano un problema di naming and shaming tu sei bravo e allora io da te questa scuola l'aiuto quella scuola non è capace quindi la punisco non è questo la valutazione non serve per questo per esempio per me la valutazione serve per l'esatto opposto agevolare chi ha incrementi proporzionali migliori cioè andare proprio nelle scuole che hanno più difficoltà e dire vediamo cosa si può fare per aiutarvi a diventare ad essere più efficienti e magari premiare proprio questo incremento di efficienza e non semplicemente premiare chi già fa bene nella propria attività questo è un elemento quindi non è la valutazione soltanto ma anche cosa accade dopo la valutazione noi abbiamo due istituti l'invalsi che è il termometro e poi ce n'è un altro che è l'indire che studia come migliorare le scuole io voglio far lavorare molto meglio queste due realtà per fare in modo che lì dove noi notiamo delle carenze si possa intervenire non semplicemente dire a delle scuole non siete in grado di fare il vostro mestiere in modo efficace arrangiatevi ma dire esattamente l'opposto lavoriamo sulle carenze cerchiamo di capire come mai in alcune parti d'Italia in alcune aree magari periferiche o d'altro esistono possono esistere delle carenze specifiche e come intervenire anche con finanziamenti maggiori proprio lì dove c'è più bisogno e poi con questo concludo questo tipo di valutazione può anche diventare come io mi auguro una valutazione di carattere volontario cioè quando la valutazione diventa una cosa utile io sono sicuro che le scuole la faranno perché è utile non perché la debbono fare io sono contrario all'obbligatorietà dei test invalsi perché rischiano di diventare un ulteriore onere per le scuole io invece vorrei che diventassero uno strumento utile e fornito gratuitamente per cui ci fosse la fila fuori dalla porta per fargli i test invalsi sono contento di vedere che quest'anno oltre il 90% delle scuole li ha fatti nonostante non fossero obbligatori forse il percorso è già cominciato bene parlato di valutazione costruttiva come si può rendere più costruttivo l'esame di Stato la maturità lei ha detto che non vuole stravolgerla per rispetto anche degli studenti però ci sono state delle modifiche che hanno fatto molto discutere tra cui anche le famose tre buste all'orale cosa ha intenzione di fare su questo fronte allora per me la questione dell'esame di Stato è importante come ho detto sin dall'inizio non è detto che io sia favorevole almeno all'esame di Stato così come oggi però non è neanche possibile che ogni ministro che arriva cambia l'esame di Stato perché rischia di essere ha un elemento di narcisismo per cui un ministro che non riesce a fare altro si scaglia con l'esame di Stato tanto è facile basta un decreto ministeriale non devi discutere con nessun altro no io dico diamo continuità agli studenti evitiamo quello che è accaduto l'anno scorso per cui a marzo aprile ancora ricevevo lettere e email nonostante mi occupassi di università da parte di tanti studenti che chiedevano ma come sarà l'esame di Stato noi siamo a due mesi dall'esame non lo sappiamo noi dobbiamo dare loro invece un orizzonte temporale per prepararsi e sapere che a giugno verranno valutati sulla base di questi meccanismi ora sulla questione delle buste che tra l'altro voglio ricordare a tutti è un elemento come dire formale più che sostanziale stiamo valutando esattamente che tipo di intervento fare posso capire benissimo la necessità delle buste per dare anche un'apparenza di meritocrazia e trasparenza però è pur vero che vorrei evitare che ore e ore si perdessero soltanto per cercare di distribuire quesiti ed altro perché molto spesso le commissioni invece debbono dedicarsi più tempo possibile alla valutazione all'esame degli studenti e non semplicemente fare delle lotterie che richiedono tempo e risorse quindi stiamo valutando esattamente in questi giorni quelli che sono i pro e i contra di questo tipo di azione e nelle prossime settimane saprete esattamente se le buste resteranno o se verranno sostituite e quindi si tornerà a un sistema di quesiti come era prima bene ringraziamo il ministro dell'istruzione che ci ha concesso questa intervista alla vigilia della presentazione delle linee programmatiche da parte del ministero nuovo ministero dell'istruzione domani presso le commissioni congiunti di camera e senato e consegneremo oggi stesso al ministro le altre domande che i nostri lettori hanno formulato nei confronti del ministero sperando che vi siano delle risposte positive alle loro istanze e ringraziamo tutti per averci visto e seguito nel corso dell'intervista grazie